Grazie a tutti. È la prima volta che da quando siamo insediati ospitiamo un ministro della Repubblica ed è molto importante, io credo che questo primo momento nasca attorno ad un progetto di questa natura che accoglie e raccoglie parole alle quali vogliamo molto bene e per noi fondamentali. Poi è esercato di mantenersi e spesso mantenere i figli perché ci troviamo molto spesso che gli uomini, i padri dei bambini non parlano dei miei figli. Proprio perché è fatta così e proprio perché è replicata da esempi virtuosi che già esistono nel territorio, esempio la Massoli, il nostro partner, che riuscirà attraverso la DSTEP a garantire una preparazione tecnica molto alta per le donne che frequenteranno questi corsi, che non chiamo di formazione, ma perché comunque è un progetto sociale, e potranno integrarsi nel mondo del lavoro con un'altra specializzazione. Noi è chiaro che il corso sarà tenuto da Sarte di decennale esperienza e da professionisti del settore e quale sarà il valore aggiunto di questo corso, quindi riuscire a far sì che queste donne siano nella condizione di fare una finitura a mano di un capo, cioè sappiano uscire e lo sappiano fare nel modo in cui agli imprenditori serve perché per loro è necessario. Grazie a tutti di avermi permesso oggi di essere qua e di parlare di un tema così forte e soprattutto purtroppo in me ancora così diffuso. E non mi nascondo che sono molto molto emozionata perché l'ho anche un po' vissuto da bambina e quindi per me è doppiamente importante oggi essere qui a parlarne e a dare anche in parte della mia testimonianza. Svantaggiata perché vengo da una famiglia di un certo sociale molto bassa dove la violenza purtroppo l'ho subita. Mia mamma si era innamorata di un padrino e quindi ho passato tutta la mia infanzia a identificare un uomo, perché non era mio padre, e quindi parlo di una bambina di 5 anni, che era un uomo buono di giorno ma appena sentiva l'odore del vino era alcolizzato, diventava una bestia. E quindi ho passato veramente 12 anni a nascondermi sotto i tavoli perché tutte le notti era violenza, botte, urla, macete, coltelli, ti ammasso, vi ammazzo. A volte ci si chiede cosa possiamo fare, qual è il compito delle istituzioni, qual è il compito di una città, qual è la responsabilità della città e quale concretezza possiamo dare alla nostra volontà, la nostra volontà di dare una risposta, di incontrare vite, di restituire sospettive speranze. Allora mi permetterà, come sapete, credo che l'immagine di quella bambina soffiuta di notte, da sola, che si domanda il perché, ecco quello è il diritto che viene dato all'istituzione, il nostro compito è permettere ad ognuna di quelle bambine ferite, ferite da bambine, ferite da adulte, di poter trovare un perché ma soprattutto di poter trovare una porta ad aprire, una comunità che al di là di questa porta le sa accogliere e soprattutto offrire una speranza di concretezza, una prospettiva di vita, per loro una prospettiva di vita possibile. Ecco perché o una comunità tutta intera si convince di questo, o le istituzioni insieme al terzo settore, insieme alle forze dell'ordine che svolgono un ruolo straordinario, non solo di protezione e di raccolta della denuncia, ma di educazione alla dimensione civica e sociale, in quel tema di una società che si dà delle regole di convivenza positiva e all'interno di queste regole sa proteggere e custodire tutte le persone, soprattutto le più sole e le più fragili. Ed è vero che le persone le più fragili non sono solo quelle dei cedi più poveri, perché la solitudine e la schiavitù delle donne è proprio davvero, per me a tutti i livelli sociali. C'è un dato che è devastato. Nel 2020 il lockdown ha avuto un effetto benefico, che è quello dei perdimenti più reati, questo lo dicono i dati del Viminale, tranne uno, quello della violenza contro le donne, che ha aumentato come percentuale, ed è aumentato il numero di richieste. Allora significa che la violenza contro le donne è un crimine così radicato che nemmeno l'interruzione delle relazioni sociali ha saputo interrompere, anzi lo ha amplificato perché ha interrotto quei legami invece di comunità, di prossimità, di sicurezza che un po', un po' a volte possono attenuare. E allora su quei legami noi dobbiamo lavorare. Dignità, coraggio, l'osare il qualcosa che non c'è. Si dice alle donne che possono creare qualcosa che oggi non c'è e che solo grazie alle loro mani, alla loro intelligenza, alla loro fantasia, alla loro capacità di mettersi in gioco potrà essere creato per tutti noi. E questo è esattamente il contrario di quello che viene ripetuto giorno dopo giorno, notte dopo notte, a quelle donne e ai loro figli. Ecco perché è un'arma davvero straordinaria, io credo che abbia una potenzialità questo progetto, molto forte, molto forte. Quindi lo riconosco come davvero un progetto di qualità. E l'ultimo tema a cui vorrei parlare è la questione che riguarda, è stata detta, del lavoro, della possibilità di un'autonomia economica. C'è una comunità, c'è una storia personale che deve essere riscattata, ma c'è anche la dignità sociale che va a restituire dalle donne. La nostra Repubblica è una Repubblica fondata sul lavoro e la nostra Repubblica riconosce il diritto al lavoro e il dovere a tutti di concorrere al bene comune. Una donna che è vittima di violenza, una donna a cui viene privata questa dignità di cittadinanza di base, perché è una donna che spesso non è in grado di poter affrontare il mondo del lavoro con un'autonomia. Grazie. 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 Grazie.